Sono Giuseppe Rezzi, ho 21 anni, sono nato a Ragusa e attualmente studio design al Politecnico di Milano. A design in corso presento una seduta, una seduta semplicissima, perché oggi non si sa più cos'è una seduta semplicissima. Infatti una seduta può avere mille funzioni e non si sa più a quale delle tante dare maggior valore. Sono del parere che un oggetto non debba essere necessariamente stravagante per essere vissuto in maniera migliore, ma la cosa necessaria da fare è studiare le abitudini dell'uomo per scoprire l'autenticità dei comportamenti umani che poi vengono riportati alle proporzioni, ai materiali, alle sensazioni. Ecco, penso sia questa la chiave di lettura del mio design, che è definire purezza e non minimalismo. Ciao! Grazie a tutti